Siamo all'interno dell'Ottica Ferri a Camuscia, un bellissimo negozio, ma solamente siamo venuti qui per chiedere una cosa importantissima. C'è una grossa novità sulle lenti progressive. Sì, è arrivato questo nuovo visore che grazie all'utilizzo del metaverso, della realtà aumentata, vengono sviluppate le lenti progressive Anima. In pratica il cliente dovrà indossare questo visore e grazie ai movimenti della testa e degli occhi verrà mappato il progetto della lente. Quindi proprio una lente costruita ad hoc, su misura, al 100%. Sarà naturalmente più facile per tutti coloro che hanno bisogno di lenti progressive avere questa grande novità? Sarà più facile per loro vedere? Sì, grazie all'utilizzo di questa nuova tecnologia l'adattamento sarà più rapido, quasi immediato. Sono stati risolti i problemi delle vecchie lenti progressive, cioè le distorsioni laterali sono state ridotte al minimo, quasi come una lente monofocale, cioè una lente solo da lontano. Abbiamo riscosso un ottimo successo, un ottimo riscontro da parte dei clienti storici, ma anche quelli nuovi. Hanno accolto bene la novità di un negozio più grande, con un dettaglio anche ai servizi della vista, quindi dalla parte delle lenti a contatto agli occhiali, sia monofocali che progressivi. Abbiamo anche il laboratorio dove vengono tagliate le nostre lenti, tutte le tipologie di lenti e quindi i nostri occhiali escono dall'inizio alla fine dal nostro negozio.